Le ultime mareggiate hanno di nuovo messo l'accento sulla fragilità del litorale pesarese fra spiagge inghiottite, danni alle concessioni balneari e ciclabili in vase da acqua e sabbia. Soprattutto nel litorale sottomonte protetto da scogliere vetuste e poco funzionali. Un tema scogliere particolarmente attenzionato dalla Regione Marche che in questo inizio febbraio ha deliberato 40 milioni di euro di interventi con importanti investimenti su Fano, così come è stato recentemente presentato l'ultimo intervento su Marotta. Pesaro però non è stata inclusa come priorità, eccezione fatta per 250 mila euro investiti su Castel di Mezzo. Lo ha sottolineato il consigliere regionale Andrea Biancani evidenziando la vulnerabilità delle spiagge sottomonte. La Regione è a conoscenza della necessità di completare l'intervento di sottomonte per cui per il quale erano necessari circa 400 mila euro. È dal 2020 che chiedo questo finanziamento, ma purtroppo è sempre stata una risposta negativa. Io ritengo che questo lavoro sia urgente, un lavoro che dovrebbe consentire una maggior sicurezza sia per gli operatori ma soprattutto anche per la pista ciclabile che è pubblica, ma purtroppo probabilmente prima dell'estate 2025 non sarà possibile intervenire. La Regione infatti ha evidenziato che le risorse attualmente disponibili sono legate all'annualità 2025. Questo vuol dire che sia per l'inverno e il prossimo inverno, cioè quello tra il 2023 e il 2024, per l'estate 2024, ma probabilmente anche per l'inverno 2025, sarà difficile riuscire ad avviare i lavori in quanto i finanziamenti appunto sono finanziamenti che non prevedono la possibilità di intervenire né per il 2023 né per il 2024. Sul fronte maggioranza il consigliere regionale Nicola Baiocchi ha rimarcato l'intenzione di riperire fondi per sottomonte su un piano scogliere che fin qui ha privilegiato l'ancor meno protetta costa meridionale della Regione.